e salve a tutti sono zombie best e convinto non è vero sono zombie best e basta in questo canale e sono qui con jambu francis bene francis è un ospite nuovo speciale che si chiama ulse bene il nome suo comparerà in superimpressione ora ulse molto bene noi partiamo altro tempo startiamo subito con questa mappa così il pc di jambu ha tutto il tempo che vuole per caricare la mappa chiediamo a trivago chiediamo anche a trivago sulle guide zombie di mandarci con nomi un po' più capabili esatto esatto con dei nomi migliori e quindi trivago ci ha aiutato anche qui ok devo settare game mode classic objective lasciamo tutto com'è ok facciamo start with your settings e vaffanculo old school zombies no changes ok ok oh beh ma non mi sembra si beh non so non mi sembra summit per ora da come mi avevate detto nei commenti però noi siamo comunque qua abbiamo già so già che c'è il pack a pancia ah ecco il nome della mappa non l'ho detta si hai ragione è summit ma che roba affacciatevi qua ah si è vero è vero è vero è vero è vero vabbè ok il nome della mappa non l'ho detto è nazi zombie non è vero è sky resort però c'è battiamci il nazi zombie davanti tanto fa figo quello mamma c'è summit mamma si apre io cambio i tasti voi intanto copritemi un attimo che io modifico un po' di impostazioni dove cazzo sono i comandi fatelo morire fatelo morire cattivi che siete siete cattivi siete cattivissimi ma lo zombie ci avete lato io voglio la previsione di zombie ok prigionieri che tipo fuori nevica e il tempo no non quella meglio voglio la previsione a round a round a round ragazzi 25 round 25 round ragazzi 25 25 25 ragazzi una domanda qual è il record che round eh avete capito insomma beh sì mi sono spiegato 20 su zebba farm penso sia quella più più lungiva anche se 4 4 4 ci siamo suicidati le tue 128 ossa vabbè su zebba è cresciato eh cazzo a noi c'hai cresciato per quanto dire 120 ossa che cosa bello che quello aveva 120 ossa mica io facevo lo scanner ehi amico vuoi farti fare lo scanner? si ok era gx no 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 ho comprato il g3 a muro ho sbagliato volevi riparare dai chi è lo stronzo che l'ha messo qua ma che basta vabbè è buono il g3? ma che ne so adesso te lo dico spara un colpo alla volta mi sembra adesso adesso te lo dico perchè adesso te lo dico perchè guarda io gioco tanto con la berretta in onore a mio padre io ragazzi se volete ve l'apro la porta con l'ista key shotta questo è già buono andiamo già in esplorazione? ma no si esploriamo vai iniziamo con l'esplorare la mappa sento ullss non mi sovraimpressione ullss è già finita l'esplorazione della mappa perchè ma ullss ullss ok di qua ci sono dei detriti apribili si sono apribili ragazzi abbiamo tre strade abbiamo tre strade forse addirittura quattro quella centrale è anche no quel centrale è no si abbiamo quattro strade si anche quella centrale c'è anche quella centrale ma tutte le strade portano a roma si è vero eeeh arrivo papa arrivo tra l'altro dietro voi non avete notato ma abbiamo lasciato del ma che cazzo è il coltello abbiamo lasciato anche una porta dietro ah c'era c'era ah beh ma penso che faccia fare un giro in tondo ma tu ecco ti ti vedo ti vedo ti vedo vedo il tuo nome ciao giambu si anch'io si sono qua fuori tranquillo non ha senso non aprire quella porta se non vuoi buttar via un po' di punti oh no non aprite quella porta preziosi beh il g3 in testa tende a uccidere oh quello con 2600 punti fra ascolta io voglio andare da questa parte quindi apri di qua per favore ah chi sa perchè io lo so già perchè io non so perchè ma voglio andare ci può cadere di sotto secondo voi no io non voglio provare no no potrei tentare vai 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 fra tenta no dai ok vai vai no화 ok oh ok io l'avevo detto di non invitarlo dopo ci penso io al montaggio tranquillo scusate ragazzi ragazzi io ho una brutta cosa che hai è un brutto presentimento nel senso se uno va a terra e per caso non lo rianimiamo non è che finisce la nuova partita ecco questo qui è questa sì secondo me anche no è un quesito che vi lasciamo non voglio assolutamente che ciò accada vero owls scritto owls in sovraimpressione owls eh sarò io quello che andrà per primo a terra molto bene eh già l'autoconvinzione delle persone è utile chi è quello più scarso tra voi tre? io bene voglio fare una sfida con te vai io vado a partita in senso posso cadere o venti volte a terra in un round ah ti posso confermare tipo la partita è quella che abbiamo fatto nella mappa quella che assomiglia si knype the run totten si knype the run totten beh ha fatto delle proate la jambu che lascia aperte sembrava che il dio stesse sceso nel suo mappa sinceramente come quella mappa non so tutte avevano sono belle ma quella lì era proprio non so ma ha caricato un desk si ha fatto delle proate veramente devastanti no ma non solo per quei venti secondi di gloria senza jug non c'era il jug indipendente non c'era il jug indipendente che poi nei commenti ci dicevano che c'era il jug nelle bibite nel cesso si nel cesso esatto l'ho visto anch'io nel cesso noi non abbiamo a me sembravano molotov sinceramente a me sembravano molotov erano molotov perchè io le lanciavo a me sembravano bene allora sono molto mi piacciono le molotov sento oles scritto oles in sovraimpressione oles un po' silenzioso parli dica qualcosa eh dica qualcosa ci dica l'opinione sulle mappe in generale esatto cosa ne pensa di questa mappa qual è il suo round che pensa raggiungeremo al secondo tentativo io dico 20 20 20 bene secondo me 25 chi vincerà dai due box apro la prima porta voi aprite la seconda pro cattivi io non ho punti quindi me li farò per la prima volta possiamo dire c'è la skate perchè qua ci sono delle tavole da lol no quando stavo era snowboard lo snowboard dai su apro io la prossima andiamo sempre da sto lato perchè a me piace sto lato vai vai oh non cadete se cadete io ammazzo qualcuno no no su di qua dove si va oh quassù c'è l'MP5 quassù c'è una porta da 2000 aspetta e prova adesso a fare la provata l'MP5 non mi piace si si ce la faccio ce la faccio ce la faccio no non ce l'ha fatta vabbè praticamente è summit la conosciamo si si la mappa la conosciamo già per fortuna qui c'è una U bello UMP45 parkour vici beh sta mappa c'è una bella idea rifarla in zombie perchè è una bella mappa summit ok qua ci sono due porte appibili io aprirei la porta della casa che si trova qui dove c'è l'antenna io andrei di qua perchè secondo me dentro c'è oh cazzo ci sono un po' di bug questo zombie sotto l'uomo ragazzi ragazzi in cazzo che dobbiamo in cazzo che dobbiamo finirci non so già come fa alla fine in una partita buttandoci tutti giù assieme e quello solito dove è uscito 3.60 sulla antenna una madonna ah giusto giusto possiamo anche andarla sopra adatta da sopra forse vai andare sopra oh apriamo qui vai jamb vai jambu vai jambu vai jambu corre 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 bene bravo jambu ok qua è una bella stanza almeno interna notare come nevita anche qua dentro finestre bagate bucate con i vetri che poi ricordi che qui siamo calocaduti non è bad non è oh ma è un po' diversa beh dai comunque non è male e beh perché è una stazione scelistica questa stiamo a colmaior va bene qui c'è l'usas 12 l'usas? ok eh io vorrei trovare le bibite intanto il jug in particolare e la cazza e poi c'altra porta da 1.5 qua sopra no ma di qua si può andare guardate qua è già aperto ok no qua c'è il calcio del muro ok inutile però è inutile che il troppo calcio non è mai il calcio del muro beh dopo lo prenderò no vabbè dai per quarta bimbo io voglio prendere un caffè ciao qua cos'è qua sono le sentex però più spesso che cazzo è il camore del round condiziale oh lo sacchiotto dove sei? oh là sopra magari non sono mai provato a attivarlo bello caffè espresso macchiato senza cafeina senza tutro poi c'è ci sono dei della banca guarda la banca preleviamo vai perchè i round stanno andando? lo vedo si noi scopriamo i bug in tutte le mappe noi scopriamo i bug in tutte le mappe siamo dei petate dai che lo facciamo il 25 secondo me è stata la banca bisogna partire dalla banca abbiamo ordinato un caffè ieri fra ma finalmente sento i zombie ma cavoli in round 10 senza oh merda corrono come dei puttani ecco eh si è round 10 così a caso dai abbiamo fatto un round 10 così a caso ragazzi guardate le uccisioni guardate le voce a terra sono i miei se sei uccisioni no 22 quasi beh dai bene vedici meglio del mio record precedente perchè i veri perchè i veri pro non hanno bisogno di vedere le uccisioni forse è stato l'orsetto aspetta che mi è stato proprio l'orsetto zombie qua è un po' sto perfetto per girare si si qua ma qua in generale si anche torna a tavolo c'è enorme sta parte ci sono delle tensione dove puoi passare solo saltando quindi ti porti dagli zombie salti ma che cazzo ma avete visto? no cioè io sono andato lol è vero nooo aspetta guardate se mi colpiscono fermi fermi vai avanti lasciatene arrivare uno lasciatene arrivare uno non arrivano zombie da dietro eh lol andiamo un po' avanti andiamo un po' avanti reglizzando porcappo no no oddio ok non è stata una bella idea ok adesso basta glitchare giochiamo un po' più oh non lasciamo di morire eh no no infatti cazzo 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 jump muoviti ma sto 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 la mappa più buggata del secolo troviamo la cassa e il jug per favore che siamo già a 10 non è stata una buona idea far passare i round non sappiamo come eh anche se i round sono passati non sappiamo come vi ricordo che non è una bella cosa che passino se non abbiamo un cazzo no oddio quanti sono quanti cazzo sono ok andiamo andiamo ma cosa andiamo io volevo andare no io volevo andare di la volevo andare di la io oh cazzo quanti sono guarda non posso andare di la oh devo stare attento a non cadere qua perchè prendete quella cazzo di bomba vai 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 no no andiamo di qua andiamo di qua ma la corrente la corrente attiva la corrente è di questa parte dov'è ah sto arrivando la luce lui vede la luce muoviti che siamo al round 12 secondo te c'è la cassa c'è il vagliore della cassa ok sotto andiamo dalla cassa vi prego dov'è la corrente vabbè io arrivo dalla corrente io mi sento che qua vai pago mille pago mille ma va c'è un cazzo qua aspetta qua vai qui la rega mark 2 qui c'è la rega mark 2 ma che cazzo siamo arrivati si siamo arrivati dove era il loro già come hai fatto fare un giro del cazzo ma cazzo si c'era cazzo io t'ho detto che c'era la cassa l'ho vista che c'era la cassa si vede il bagliore in cielo dov'è la dov'è ditemi dov'è la corrente ma qui qua c'è chiesto che sia il simbolo della radioattività ma cosa ti sembra radioattività cos'è sta roba il pp 19 ma che cazzo il pp 19 lol e mo fatemi bella oh io apro sta porta qui perchè son convinto non si apro ok bene ho due fucili a pompa sono convintissimo occhio fra occhio fra occhio fra dobbiamo trovare il jug ragazzi il jug nooo no di lì rifacciamo il giro di qui di qui il paga pancia io voglio quello cos'è che è in mano lol allora qui c'è lo voglio io allora di qui c'è il paga pancia ma manca la corrente che cazzo è la corrente ok ok torniamo torniamo dove cazzo lasciamo lo zoppo lasciamo lo zoppo mi prego lol ok si sta finendo il round lo zoppo è lo zoppo ok il comando che bella lo amo è proprio il comando di black ops 1 desert eagle ho fatto lo zoppo lasciatelo vivo ok andiamo andiamo di qua andiamo di qua si il jug il jug cazzo serve la corrente ok forse forse ragazzi la corrente potrebbe essere di qua provate a venire voi di qua stanno ancora spawnando io non vorrei dire ma jambu jambu beh io ho tanti punti ma non voglio vabbè io apro ascoltato io apro eh si perchè qua stiamo aperta eh no qui non c'è un cazzo niente porco giuro bastardo se vado a tarmi cazzo c'è anche qualcos'altro tipo radiattivo ne mi ricordo eh no non c'è l'ho visto io prima io dove fanno gli esperimenti su deb esatto esatto ok abbiamo trovato il jug ma manca la corrente dove siete voi ragazzi io sono dove c'è la cazzo io sono in giro per la mappa a cercare la corrente anch'io ho guardato ho trovato un bel po' di robe c'è uno zombie ma posso c'è uno zombie oh ma che cazzo no 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 cosa è successo chi è stato chi è stato allora allora vieni con vieni ci faccio capire cosa è successo eh sono andato là dentro sono andato dentro là dove era sopra dove di solito si mettono i titi che combattono i corridoi c'è una porta per andare verso l'antenna ci sono andato e non c'è un cazzo mi sono caduto lol 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 di nuovo basta fare strozzate adesso basta fare strozzate ahhh chi cazzo non c'è me il zombie sta impazzesco ma intanto abbiamo trovato un sacco di belle bibite si ok ma l'abbiamo trovato la corrente secondo me è comunque la corrente errarla dentro la dentro ok adesso non andiamo a sinistra ma andiamo a destra no adesso prima siamo andati a destra ma comunque adesso andiamo a sinistra adesso andiamo a sinistra no anzi a sinistra si a sinistra lì c'è uno scatolone dritto per dritto so dove ci va no io andrei dove c'è la scritta enterer perchè secondo me lì c'è la corrente dove c'è enterer che poi non so perchè enterer non ti fidare comunque non ti fidare eh bisogna fare attenzione allora attenti a dove mettete i piedi perchè sennò partono le bestemmie di tutti madonna mia c'era una bastardata quelle potevano fare che moriva e basta infatti si che sei inventato sta mappa balgata qui ci si parla mappa ce ne sono un'infinita si però con il nantico e poi voglio vedere l'utilità di queste persone che usare il snowboard per varicare un punto per controllare il zombie c'è anche utile mappero portano da soli poi si ma prima si era bagato non è detto che adesso si baghi di nuovo forse è stato con la mamma qua qua è un tutto un bag è un bag è un bag con contorno di mappa si ma ecco boh andiamo abbiamo presa con 800 punti vai apro la prima non sono a te non è blackhop abbiamo i punti doppio sinistra ma io andrei di qua io ragazzi ridati di me ridati di me ecco qua questo cosa cazzo cazzo io avevo detto andare dall'altra parte non è non è possibile deve essere qua deve essere qua me lo sento eh aprite vai fra oh no questa è la qua non c'è eh io avevo detto eh bello ragazzi abbiamo aperto tutto no qui manca oh la stamina app ragazzi qui qui manca qui secondo me è qua dentro eh 500 punti vai ti ho detto che era qua questo cos'è questo cos'è perchè non si attiva però vabbè non c'ho cazzo però lì c'è compare il simbolo di una mano quindi eh guarda guarda possiamo costruire dei pezzi tipo transit what the fuck ma va panculo ma che cazzo è questo ecco dobbiamo costruire il corso della corrente no dobbiamo costruire il corso della corrente no 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 dove cazzo l'hai trovata dove cazzo l'hai presa dove cazzo l'hai presa dove cazzo l'hai presa ma che cazzo ma stardo buttatelo giù buttatelo giù buttatelo giù prendetelo buttatelo giù muori oh i zombie ok no dove cazzo l'hai presa eh fra non lo so mi ho spuntato in mano dopo che sono andato qua sono andato qui precisamente qua sono andato ho aperto c'è la rega ma che due che mi spuntano buttatemi la cazzo di pistola ma cosa cazzo è ma comunque dobbiamo costruire le parti per la corrente io la amo no ragazzi qui è bruttissima bisogna prendere le cose per la corrente bisogna trovare i pezzi cercateli in giro allora il round si è bagnato il PhD anche ma che cazzo è no c'era uno zombie a quelle parte ecco ecco boh stiamo trovando di zombie trovato trovato un pezzo trovato un pezzo trovato un pezzo trovato un pezzo dove era? si era qua cos'è questo? cos'è? trovati i pezzi per costruire la corrente eh ma che... eh? ah no oh zombie cos'è questo coso qua? ah una bibita? no mi sento io mi sento io mi sento io non gioco molto a Black Ops 2 dove? dove è che sei? e dove? eh ma cos'è dai? non voglio fare un easter egg cosa? dimmi dimmi vuoi finire l'interista che vai via? ok andiamo ah quello cosa? si è un PECD traducilo per gli esseri umani che quando salti in avanti così che poi qui non puoi saltare in avanti che cazzo è Alien è? praticamente esplode basta tutto qua oh i pezzi servono adesso? eh non riesco a trovare iniziali non ho trovato nulla ok io io sto girando un po' la mappa negli angoli ma neanche io non ho trovato nulla bella vediamo quella pistolina oh rientriamo dentro dove eravamo prima perchè lì quella stare dentro mi piace più io entro eh arrivo ma mi mancano un po' di punti per aprire per ms 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 per riparare ok sono dentro cercare i pezzi qui io cosa c'è successo? no mi è arrivata una manata da un zombie che non lo so io 1500 punti per aprire da qualche parte se volete io mille punti anch'io proprio io prirei dalla cassa ora no 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 qui era bastava aprirne una di qua aspettate con il mio no qui non c'è nulla qui non c'è nulla neanche qua qua neanche dai ma franci ma tu li hai montato? si li ha montato e non ti fatti vare ancora la corrente vero? no bisogna prendere gli altri due pezzi tipo come transit ho capito posso prendermi una cassa? si fatti fatti la cassa che meglio guarda se è baggata mamma mia si vede su oh cazzo trovato il pezzo trovato il pezzo dov'è che era fra vieni qua dove sei fra ah la sopra tu c'è il cockpunch qua oh son passato anch'io qua per di qua prima qua era ah cockpunch non sono anche soccorato molto bene si l'avevo già visto prima quello manca l'ultimo spezzo quindi vai a montarlo fra ho un'ump 45 un'ump 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 io qua voi non sarete tutti nella merda mi vedo la rega mark 2 muore aspetta che adesso vai ok l'hai montato vedo bom te la fa ancora attivare mi sa oh si 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 molto bene abbiamo la corrente bene 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 adesso sappiamo anche dove è il jug siamo a posto possiamo proseguire con i round ah io non so dove è il jug si si tranquillo è lì dove c'è la cassa la porta a destra eh 25 punti aspetta ah si non dirmelo cosa cosa dove qua si ci sono i 25 punti i bug lol come si fa a prenderli devi sbagliarti ma sulle bibite che non ho che non ho fatto spiricola e phd l'ho fatto andate sulle altre sulla stamina poi tentate sto andando no a me non me lo da sdraiati sdraiati mi sono sdraiato vabbè vedo io ma noi non siamo barboni che ci attacchiamo a 25 no sulla stamina no Dio mio che pelo so senza armi io non è per ma non c'ho un cazzo io c'ho un g3 a coltello fai i punti e ti accompagno io a cassa ma la liga mark 2 è tipo un mitra lol è tipo un mitra lol va bene un mitra spraia si spraia occhio a non cadere qua per favore no ma va fuori avete già provato ad andare qua dal lato non è che si buga tutto e si cade giù una verbo ah guarda zombie ci faccio vedere dove sono caduto ecco fammi vedere dove sei caduto aspetta che mi faccio punti con gli stakill che sono senza armi torna sopra torna sopra dove c'è jambu jambu vieni qua a vedere aspetta aspetta mi faccio una cassa e arrivo no 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 non si apre nemmeno ho visto anche lo zeus passare oh ho preso un mitra un mitra tipo un mare del se c'è anche lo zeus dov'è che eravate fra e con i tuoi qua sopra no no, vieni qua sopra fermo faccia solo una volta sto arrivando vieni qua sopra, ho già aperto, vabbè io sto facendo il giro, non importa, non ho fatto il giro come aprire per il cazzo, eccomi non andarci, non andarci, non andarci dov'è che non devo andarci? non andarci, non andarci perché se ci vai, ok non andarci anche tu esplodi non andarci ho detto guarda qua zombie